Con il passaggio di Roberto Sant'Angelo e Sara Marcozzi a Forza Italia, il gruppo degli azzurri è il più numeroso in consiglio regionale, l'ufficialità qualche giorno fa l'Aquila, la presenza del segretario nazionale Antonio Tajani. Questo cambierà qualche equilibrio in seno all'assise regionale? Forza Italia chiederà qualcosa? Lo abbiamo chiesto al consigliere Mauro Febbo, che è categorico. Forza Italia inoltre ha sia il presidente del consiglio Lorenzo Sospiri che il vice Sant'Angelo. Se si chiederà un passo indietro, i forzisti saranno disposti a farlo? Ma proprio perché non sono acquisti, non rivendichiamo nulla. Sono persone che sono entrate perché hanno valutato positivamente l'operato sia in campo nazionale sia in campo locale, quindi regionale, l'attività svolta in questi quattro anni e mezzo da parte del gruppo. Siamo entrati in tre, rimasti in due, oggi siamo arrivati a otto e c'è anche qualche altra ipotesi. Quindi si va avanti, peraltro stiamo facendo proprio la dimostrazione della serietà con cui abbiamo sempre lavorato, che non abbiamo messo in difficoltà nessuno, non avendo chiesto nulla, in cambio stiamo andando avanti, portando avanti le nostre idee e i nostri progetti. Ecco, avete sia la presidenza del consiglio che la vicepresidenza. Se vi dovessero chiedere di fare un passo indietro potrebbe cambiare qualche equilibrio? Ma sicuramente a nostro favore, per cui credo che nessuno ci chiederà nulla e tantomeno noi abbiamo chiesto nulla. La serietà vuole questo, dobbiamo confrontarci con gli elettori, abbiamo lavorato, noi riteniamo bene in questi quattro anni e mezzo, facendo tante cose che negli altri governi regionali non sono state fatte. Puntiamo alla riconferma, sarebbe la prima volta in 50 anni di Regione Abruzzo. Lo si fa senza chiedere nulla in cambio, senza il famoso poltronificio. Ecco perché apprezzo molto l'ingresso di questi nuovi colleghi che non hanno chiesto assolutamente nulla in cambio. Dal consiglio regionale inoltre esce il consigliere Antonio Di Gianvittorio, eletto sindaco anotaresco, sostituito nella maggioranza di centrodestra dalla teramana Federica Rompicapo della Lega, che a breve sarà operativa. Di Gianvittorio era entrato in consiglio come consigliere leghista, poi passato in Forza Italia. Si torna quindi a quota 7, ma si rimane comunque il primo gruppo in consiglio.